Musica Buongiorno, sono Serena, sono qui nel banco dell'artigiana funghi per presentarvi i favolosi prodotti tipici liguri che troverete nelle fiere d'Italia Funghi porcini secchi Funghi porcini sott'olio dell'appennino ligure Acciughe Pesto genovese con basilico di Pra e ulteriori prodotti tipici tutti rigorosamente selezionati e di prima scelta Musica 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 Vi aspettiamo in tutte le fiere d'Italia Per ulteriori informazioni contattate la signora Lina 349 59 63 8 11 Numero laboratorio 010 61 97 014 Musica